Francesca, allora, che impressione? Ma buona, mi hanno fatto morire ridere Leonore e Beppe per quel picco qua di stampo sessuale, sono stati simpatici. Ma ci sta? Chi? Lo stampo sessuale in questi incontri? Ma no, penso che non sia, è stato voluto, è stato proprio un gioco di parole, se no non sarebbero diventati rossi. Ma un po' mi sembra che sia diventata rossa la ragazza. Eh sì, appunto, perché non l'ha fatto apposta, è uscito così involontariamente. Beppe è rosso dentro. No, Beppe è stato un signore perché non ha colto, ha fatto finta di niente. E altre cose? E poi mi sono sembrati molto carini Benedetto e Max, li vedo bene assieme. Ah, ragazzi freschi, puliti, giovani, mi sono piaciuti, sì, vediamo. Se sono rose? Se sono rose fioriranno. Che cosa dovrebbero fare per farle fiorire queste rose? Beh, conoscersi di più, sicuramente, sì. Sì, vabbè, però ci vuole forse qualche altra cosa, qualche invenzione. No, quelli sono fatti loro, io non ci metto lingua. Un po' di pepe non potrebbe servire. Ma non lo so, bisogna vedere se sono d'accordo. Devi chiederglielo a loro, io non c'entro. E c'è un interesse un po' di pepe, se vuoi portare avanti un po' la storia. Ma per adesso non c'è nessuno che... Ancora non è il problema. Ancora no. Va bene. Vediamo dopo. Grazie, a presto. Ok, ciao.